La Corte di Giustizia francese ha disposto il rinvio a giudizio per l'ex ministra dell'economia Christine Lagarde. L'attuale direttore generale del Fondo Monetario Internazionale è accusata di negligenza nella gestione del contenzioso tra l'uomo d'affari Bernard Tapie e la banca Credit Lyonnais per l'acquisizione di Adidas, avvenuta nel 1994. Per il difensore della Lagarde, Yves Repiquet, il giudice istruttore avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere. La decisione opposta per l'avvocato è in contrasto con i fatti, gli atti e le risultanze d'indagine. Una decisione bollata come incomprensibile. L'affaire si era concluso nel 2008 con la liquidazione di più di 400 milioni di euro a favore di Tapie. Lo scorso 3 dicembre la Corte d'Appello di Parigi ha condannato l'uomo d'affari alla restituzione di 404 milioni, giudicando fraudolento l'arbitraggio che ne aveva giustificato la liquidazione.